Ma perché voi due stronzi dovete fare sempre sta sceneggiata quando entrate in questo posto? Ehi, sono una persona di principio io. Non ci vengo al sexy show. Sì, 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 moralisti dei miei coglioni. Tanto lo so che a casa ve lo menate a vicenda davanti a YouPorn. Celsi per boda ci ha convocati. Atramaro è il nostro acerrimo rivale. Ha commesso uno scarlo personale a signor Pick. Conosceteci Ro Perozzi? Detto lo scontrino. Era a gennaio della cosca di Tonica Atramaro. Scontrino a tutti i numeri dei conti correnti in Svezera. E ha deciso di bastarle a Pick. Lo vogliamo integro, vivo, vegeto e profumato di Chanel numero 5. Oh, cazzo. Lasciatemi andare. Non respiro più, vi prego. Sta zitto. E questo che cazzo è? Cazzo, Gerda, gli ha ammazzato lo scontrino. Grazie dell'aiuto. Vi devo un favore. Questa la tengo io con tutti i numeri dei conti svizzeri. Che cazzo ve l'avevo detto, coglioni? Pietassi, mia mamma. Come cazzo le recuperiamo i soldi del catramano? Perdono, signor Bodo, perdono. Dovevate soltanto portarci lo scontrino. E invece adesso è imbustato l'obitorio. È stata la killer del catramaro. Quella è Alice la Regina. E siete ancora fortunati ad essere vi? Lo scontrino aveva una penna USB con tutti i numeri dei conti correnti svizzera. Possiamo recuperarla noi? Siete in divieto di sosta. Patente libretto. L'avete recuperata la penna USB di Alice la Regina. Abbiamo il miglior hacker della città sulle sue tracce, Johnny Taranta. Johnny Taranta. Dov'è la teta? Io credo che sia i grandi magazzini Columbia. Ma quei magazzini non erano gli picchi. Siete fottuti. Regina! Certo, hai sbagliato a mira, cazzo! Fermo, Alice! Fuori la penna USB. Vaffanculo, stronzi. Tu dimmi dov'è la chiavetta USB. La chiavetta USB ce l'ha, Ziz. Il kebabaro del quartiere arabo. Ma non ci sono i numeri bancari lì dentro. Oh, no? C'è un film, ma io non l'ho guardato perché non mi piaceva. Il segreto dei soldi è nascosto in quella pellicola. Avvicinati.